Ho capito dalla sua risposta che quello che era il senso di quello che io avevo detto non aveva fatto l'effetto corretto. Innanzitutto quando si parla di Guardiola mi alzo anche in piedi perché io da Guardiola ho imparato tantissime cose. Lui può essere accostato a grandissimi personaggi che hanno fatto su altri campi delle cose fondamentali dalle quali tutti abbiamo preso qualcosa. Guardiola per me come Klopp, come altri grandissimi allenatori, come De Zerbi perché a me piace anche De Zerbi. Vado sempre a vederli, gli faccio la confidenza di quali allenatori guardo costantemente. Per cui se non ha fatto l'effetto che io volevo gli chiedo scusa a Guardiola perché ci fa piacerissimo quando un allenatore come lui parla del Napoli e dice cose belle sul gioco.